La chiesa dell'Immacolata di San Giorgio Ionico, piena di amici e conoscenti che hanno abbracciato genitori e parenti per l'ultimo saluto a Melania e Vincenzo, i due giovani fidanzati deceduti nello spaventoso incidente che ha funestato la vigilia del Santo Natale. Intanto vanno avanti le accurate indagini da parte della Polizia Locale di Taranto, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Remo Epifani, e sarebbero ben cinque le auto, compreso un furgone, coinvolte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 24 dicembre, sulla strada che costeggia il costruendo ospedale San Cataldo. Sulle cause del sinistro saranno utili gli approfondimenti su una scatola nera a disposizione degli inquirenti e soprattutto di alcune immagini video. Di certo resta il dolore incolmabile e palpabile durante i funerali dei congiunti e degli amici dei due ragazzi strappati alla vita dall'ennesimo incidente stradale.